si luigi diretto con lo zaino bravo è caduto prima mi sembra che è rimasto accelerato ero fermo mi sono ritrovato bello lungo e tirato e io mi sono perso lì dove adesso luigi io gli ho fatto segno perché siamo i primi se no dopo vedi le tracce un po' meglio si che vuole vero fuori di farle poi si tracciano bravo luigi buongiorno 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 alle sono aù due trai potrucci Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.